Allora ragazzi, grazie a tutti per aver fatto un sacco di domande sul canale YouTube, pagina Facebook, mail, eccetera. Da oggi comincio a rispondere alle oltre 200 domande che mi sono arrivate riguardo tantissimi argomenti della batteria. Uno dei più battuti, anzi i due più battuti, sono la lettura e la scrittura dello strumento, e farò dei video nei prossimi giorni, la registrazione e l'accordatura. Ok? Parlando di accordatura, prima domanda alla quale rispondo immediatamente. Un ragazzo che ha comprato da poco una batteria, sta iniziando adesso, parte proprio da zero, mi ha chiesto la mia batteria ha delle pelli che sono usate, si vede che sono usate, l'ho comprata alle pelli vecchie. Come faccio a capire se le devo cambiare o no? Come faccio a capire se sono veramente usurate o no? Allora la cosa è molto semplice, ti faccio vedere due pelli rovinate, cosa hanno in comune, e una pelle nuova, ok? Per farti capire come riuscire a sgamare una pelle che va proprio, diciamo, che bisogna cercare di cambiare il prima possibile. Allora, qua ho una pelle trasparente, una pinstripe, veramente molto utilizzata. Prima cosa da fare, levala dal tamburo, o comunque allentala al massimo, e mettila in orizzontale, davanti a te, così, davanti ai tuoi occhi, e guarda se la pelle fa una, praticamente, ha un'incavatura, praticamente, va verso il basso, ok? Fa così, ok? La superficie. Tu ti metti davanti, adesso provo a metterlo davanti alla telecamera, non so se si vede, purtroppo non so se si può fare, e guardando ti accorgerai che questa pelle, che è molto usata, fa proprio così, ok? Poi, ci passi sopra la mano, i polpastrelli della mano, sopra, in questo modo, e io sento proprio che è tutta, come si dice a Roma, bitorsoluta, cioè c'ha tutte ondine, non è regolare sia sopra che sotto, vuol dire che è stata presa proprio ammazzate, per un sacco di tempo, e che quindi ormai ha perso la sua forma di partenza, che dovrebbe essere bella, piatta, diciamo, stesa, e soprattutto con proprietà elastiche buone, ok? Perché quando una pelle è nuova, ha delle ottime proprietà elastiche, cosa che una pelle che è sformata, che ha perso la forma, ormai ha perso le proprie proprietà elastiche, e per questo motivo deve essere sostituita, perché per quanto tu puoi essere bravo ad accordarla, ma se la pelle non ha una certa elasticità, fondamentalmente anche il suono ne risente, avrai un suono molto scuro, molto secco, molto tu-tu, cioè poco sustain, eccetera, eccetera, quindi non avrai, non riuscirai ad accordare la batteria molto bene con dei begli armonici, eccetera, eccetera, perché? Perché la pelle vibra male, perché ha perso le sue proprietà elastiche, ok? Altra cosa che ti faccio vedere, mettendola in verticale, senti che cosa succede se io spingo dalla parte posteriore della pelle verso fuori, vedi? Fa degli scattini, perché appunto ha perso la sua forma di partenza, ormai è un po' deformata proprio la pelle, e non è più elastica, quindi se io la spingo rimane, la pelle rimane da una parte oppure dall'altra, quindi perde la sua forma e è appunto, è sformata, diciamo così. Stessa cosa con quest'altra pelle, come puoi vedere le cose sono simili, se ci passo la mano sopra, a parte che questa è una pelle sabbiata, quindi si vede ancora di più ad occhio che si è molto rovinata, la sabbiatura se n'è andata via al centro, quindi si vede che è stata una pelle molto usata. Comunque non è tanto il problema della sabbiatura quanto sempre la forma, vedi? Se io spingo, viene verso fuori la superficie, si muove, non è bella stesa, resistente, elastica, ma fa dei movimenti, e quindi questo significa che la pelle ha perso la forma. La guardo, effettivamente è concava, o convessa, mi sbaglio sempre, concava, e quindi guardandola così è concava. Se ci passo il dito sopra, è tutta mezza bitorsoluta, che sono le bacchettate date in un sacco di tempo. Tiene la forma? No, perché se faccio così fa questo scatto, e quindi vuol dire che la pelle è effettivamente abbastanza rovinata da dover essere cambiata. Guardiamo adesso una pelle nuova di zecca, mai montata, appena scartata, ok? È una pelle sabbiata. Allora, superficie perfettamente nuova, ok? Faccio quel movimento di spingere dietro e non si muove niente, ok? Vedi? Spingo, ma non sento nessun rumore, non fa quello scatto, perché non ha perso la forma. La guardo, e questa è una pelle da 16 pollici, però guardandola così è perfettamente piatta, e ovviamente è nuova, quindi se ci passo le dita sopra, è perfettamente stesa. Quindi il trucchetto per vedere se una pelle è deformata, è quello di, io faccio sempre così almeno, spingo dietro e vedo se fa quello scattino, se fa plop 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 in questo modo, così capisco subito se la pelle è deformata, ok? E ovviamente quando fa quello scherzo, sarà molto difficile per me poi andare a sistemare l'accordatura con dei suoni profondi, corposi, che abbiano un bel sustain, eccetera, perché ovviamente le vibrazioni, visto che la pelle ha perso la sua elasticità di partenza, saranno più difficili, sarà una pelle più difficile da accordare. Questo è il metodo che io utilizzo per capire a che livello di usura è arrivata una pelle, e più sono accentuati questi aspetti che ti ho fatto vedere, più è il momento di cambiare la pelle, fondamentalmente, ok? Se hai altre domande sull'argomento, scrivile nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!